buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel proseguire la serie di video su cripto.com voglio farvi vedere come si può fare un pack su questo wallet exchange un pack è un piano di accumulo di capitale vi lascerò comunque link in descrizione per andare a vedere una spiegazione più dettagliata di come funziona in questa strategia di investimento veramente semplice e una delle più funzionali nel lungo periodo andiamo a vedere come impostare un pack su cripto.com dopo la sigla vediamo adesso una funzione molto utile che ho già consigliato parecchie volte in diversi video ovvero quando vogliamo investire in una cripto valuta abbastanza chiamiamola così stabile se anche un pochino brutto da dire perché come ben sapete il mercato delle cripto valute rispetto all'azionario è molto più pazzo e ha delle oscillazioni veramente pazzesche però ad esempio avrete sicuramente sentito parlare anche da me del pac e quindi il piano accumulo di capitale il piano di accumulo capitale si può fare su qualsiasi asset io consiglio sempre di farlo con le cripto valute più capitalizzate quindi bitcoin e tirium ad esempio perché hanno delle oscillazioni si elevate ma un pochino di meno rispetto al resto dell'alt coin cosa consiste il pac vi lascerò il link in sovrimpressione dove ho fatto una piccola guida su come si usa comunque in poche parole il piano di accumulo di capitale vuol dire che a distanza di un tempo prestabilito che sia una settimana un mese bimestrale o semestrale noi andremo a acquistare la stessa quantità di cripto valuta scelta o di un altro asset e indipendentemente dal mercato sia se arrivasso oppure se al rialzo noi dobbiamo imporci questo acquisto per un periodo di tempo da un anno in ovviamente poi ci sono dei sistemi automatizzati che ci permette di continuare ad effettuare il pack anche se ci dimenticassimo ricordo che il pack funziona solamente se siamo costanti quindi magari per una persona che si può dimenticare o sa già di avere poca costanza o vuole un pochino più di praticità ci sono dei servizi come ad esempio quello che mette a disposizione cripto.com cliccando sul tasto centrale andando su acquisto ricorrente imposta gli acquisti di cripto valute su base settimanale bimestrale o mensile investe automaticamente in cripto valute senza dover inseguire il mercato che poi lo scopo del pack senza stare a vedere sempre le oscillazioni noi sappiamo che a quella data acquistiamo la stessa cripto valuta la stessa quantità indipendentemente dal mercato se scende e che salga una media questo è un calcolo matematico nel lungo periodo ci sono più che ottime probabilità di essere veramente in positivo allora qua ci sono le frequenze settimanali bimestrali mensile le cripto valute che supportano l'acquisto del pack quanti acquisti ricorrenti possiamo avere attivi 5 su diverse ad esempio anche su 5 cripto valute l'importo minimo è 45 euro dove ci sono gli importi degli importi in base alle carte che noi possediamo allora vediamo come impostarlo andiamo su configura acquisto ricorrente supponiamo di voler fare un pack su bitcoin alla schermata qua di fianco selezioniamo la frequenza mettiamo mensile se andiamo a selezionare ogni quanto si deve ripetere ad esempio mettiamo primo giorno del mese ma possiamo impostare anche ultimo giorno del mese o un giorno specifico ad esempio magari se prendiamo lo stipendio il 10 o il 15 possiamo mettere tra l'11 e 20 andiamo su conferma selezioniamo quanto dobbiamo pagare il minimo e 45 euro supponiamo 50 e poi andiamo seleziona paga con possiamo pagare con la carta di credito quindi in base alla carta di credito che abbiamo salvato nel nostro wallet alla stessa data ogni mese ci sarà un acquisto ricorrente dalla nostra carta di credito verso cripto.com possiamo impostare l'acquisto da cripto wallet oppure da fiat wallet ovviamente l'acquisto da fiat wallet vuole che ogni mese ci sia la somma necessaria per fare l'acquisto ricorrente secondo me la cosa migliore è andare su carta di credito così ce ne possiamo anche dimenticare dobbiamo accettare le condizioni selezionare il tipo di carta e dare l'ok ovviamente il pack si può annullare in qualsiasi momento non siamo vincolati a vita ci mancherebbe altro io consiglio sempre di fare almeno una durata minima di un anno ma se potete anche di più 3 4 5 6 anni e vi renderete conto nel tempo se il mercato va come deve andare senza problematiche particolari dovute a cause esterne quindi enti governi e via dicendo vedrete che nel lungo periodo il pack ha quasi sempre ragione di essere stato fatto e di rendervi in positivo siamo arrivati alla fine di questo brevissimo tutorial vi ringrazio dell'attenzione vi faccio di nuovo il mio invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e di unirvi alla nostra community di telegram per supportare il nostro lavoro se avete voglia condividete il mio video e lasciatemi un commento e un like ciao ragazzi alla prossima